Nell'ambito della riorganizzazione delle modalità di rilascio delle carte d'identità ci saranno alcune novità per gli utenti dello sportello dell'aeroporto di Capodichino. Si chiamerà infatti sportello al volo e non più sportello del viaggiatore il punto di riferimento per i viaggiatori italiani sprovvisti di carta d'identità ed in possesso del titolo di viaggio che hanno bisogno di ottenere la carta d'identità in tempo utile per poter partire. Da lunedì 19 il servizio sarà rivolto dunque esclusivamente ai cittadini italiani in transito presso l'aeroporto di Capodichino e muniti di un biglietto aereo con partenza prevista entro le 48 ore successive alla richiesta. Il costo per il rilascio del documento è di euro 60 solo in formato cartaceo. Lo sportello aperto tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 è posizionato nell'area e arrivi al piano terra di fronte all'ufficio informazioni.